Prima di iniziare volevo dire che la puntata di questo programma fa parte di attività di un progetto che si chiama Prospettiva 2030, che è un progetto di Arcil Barrio APS, finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ok, salve, un saluto a tutti, un saluto a tutti, un saluto a tutti chi ci sta ascoltando. Io sono Simone, questo è Norwegian Wood e oggi sono molto contento perché sono riuscito a trovare un ospite fantastico per questo mio podcast. Molto, molto umilmente posso dire di essere fiero di questa cosa e quindi lo presento subito, lo faccio anche vedere. Stiamo parlando di Alessandro Saebi. Ciao Alessandro. Ciao, ciao, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, ti prometto che diventerà meno informale questa conversazione, che io all'inizio sono sempre un po' impacciato. Allora, grazie per aver accettato il mio invito. Io ti seguo moltissimo sui social, su Instagram, perché penso tu faccia un fantastico lavoro di comunicazione su tantissimi temi, ok? Quindi è un lavoro importante e penso che non debba essere sottovalutato. Tu pensi di avere un ruolo, di avere una responsabilità in quanto semplice utente di Instagram che ha un suo seguito, un suo profilo? Non parlerei di ruolo, parlerei però sì di responsabilità. Chiaro che ognuno di noi è responsabile di ciò che dice sui propri profili. Avere un seguito che non è enorme, ma avere un seguito come il mio sicuramente pone su di te dei riflettori e quindi è giusto prendere anche delle attenzioni particolari, dei meccanismi anche di tutela verso chi magari non ha le stesse forze. Sì, possiamo dire che questo è una componente importante. Io ovviamente mi sono dimenticato di presentarti anche meglio. Tu sei ovviamente un giornalista, giornalista freelance, scrittore, anche autore tv. Hai pubblicato per diverse testate, per esempio Left, The Post Internazionale e non so, vuoi aggiungere qualcosa a tu? Qualcosa che mi dimentico, no? Hai un podcast anche tu? Non mi piace associarmi a nessun tipo di realtà. Sono un giornalista freelance, o meglio precario, perché poi freelance a volte è un po' la crosta con cui chiamiamo la precarietà, la non continuità reddituale e lavorativa. Però sì, questo è, ma tanti si riconosceranno, credo, nelle mie parole. Quindi sono io e dopo le collaborazioni che faccio sono chiaramente esterne a me. Ok, perché significa anche essere precario, essere freelance, significa anche non avere una gabbia, non avere nessun filtro e sentirti anche libero di dire quello che vuoi, no? No, non è così, anzi è vero il contrario. Essere freelance vuol dire, nel mio caso, essere partita iva, no? E quando sei partita iva sai che sei molto più ricattabile. Non siamo chiaramente in Russia, non siamo in Nord Corea, quindi la censura non esiste, o almeno non esiste quella di stato militare, di stampo direttamente repressiva. Però è vero che quando esprimi le tue opinioni, molto spesso, ti trovi in condizioni in cui devi fare i conti con l'editore, devi fare i conti con il tuo datore di lavoro, i rapporti di forza sono sempre ovviamente a svantaggio del piccolo lavoratore e quindi anche questa è una forma di censura. Io penso l'esatto opposto, che la precarietà, o appunto questo nuovo naming che è stato dato, l'essere freelance, ci rende in realtà meno liberi. Apparentemente sì, perché io ho la libertà di... Sei meno coperto, diciamo. Sei meno coperto. Sei meno coperto. Sì, io ho la libertà chiaramente di cambiare lavoro, ma è anche vero che sono più forti le libertà del mio datore di lavoro, se libertà voglio anche amarle, che sono quelle di non farmi lavorare da un giorno con l'altro, perché magari dico qualcosa di scomodo. Sei chiaro, non è qualcosa che riguarda solo me, ma riguarda tutti i lavoratrici, i lavoratori che si trovano in questa condizione. Un grafico, un social media manager che si interfaccia col proprio datore di lavoro, senza un contratto e appunto con questa etichetta del freelance, sa che da un giorno con l'altro può rimanere a piedi, quindi deve prestare il triplo dell'attenzione. Sì, ma diciamo che la questione dei lavoratori, soprattutto in Italia, è veramente delicata e tu ne parli spesso, no? Di questa differenza che c'è di potere tra chi magari ha i soldi, che si trova in una situazione, in una classe più agiata, e chi è un semplice lavoratore, chi può soltanto fare affidamento, ecco, su di sé. Questa, diciamo, la questione dei ricchi, diciamo, è un tema che ti sento approfondire spesso. Infatti io volevo partire con questa domanda, un po' ironica, ma nominami un sistema migliore del capitalismo. Adesso faccio una piccola precisazione. Tu hai nell'inciso emesso soprattutto in Italia. In realtà la crescita delle disuguaglianze e la loro cristallizzazione, che vuol dire di fatto che se nasci povero tendenzialmente ci rimani, se nasci ricco tendenzialmente migliori le tue condizioni, è un fenomeno globale che si registra in tutti i paesi, soprattutto di capitalismo maturo. quello che grossolanamente possiamo chiamare occidente. Quindi è necessario fare questa precisazione, se no si italianizza troppo. Nominami un sistema migliore. Io non credo di riuscire a nominare un sistema migliore, perché è una domanda che posta, per esempio, con una macchina del tempo a un contadino del Medioevo, non avrebbe potuto darti una risposta. Però il grande inganno è quello per cui noi viviamo nel migliore dei mondi possibili e addirittura nell'unico mondo immaginabile. Invece noi sappiamo che la storia umana è molto lunga e nel corso della storia abbiamo cambiato tanti sistemi. Il capitalismo moderno, per come lo conosciamo, ha occupato solo 4-5 secoli della nostra storia, ma Homo sapiens sappiamo che esiste da 200.000 anni, quindi è stupido pensare che sarà il sistema con cui accompagneremo l'umanità per sempre. Ed è proprio qui che bisogna ripartire. A volte bisogna fare emergere le contraddizioni del proprio sistema e cercare di spingere verso il cambiamento. Poi quale sarà il cambiamento non lo posso dire. L'ho sempre detto, io mi sono definito e mi definisco un socialista, quindi la direzione che posso immaginare è quella, poi non posso prevedere il futuro. Ecco, ma perché ci viene così difficile riuscire? Ovviamente ci troviamo all'interno di questo schema, no? Ma perché ci viene così difficile parlare o immaginare un sistema migliore? Forse perché è veramente tutto condizionato a quell'idea di capitalismo, a quell'idea di raggiungere quello. E quindi ovviamente questo condiziona qualsiasi tematica. Condiziona la tematica ambientale, condiziona la tematica dei diritti civili, no? Beh, allora, è una storia un po' complessa. Io dico sempre, prendiamo come data al 1979, c'è una importante esponente politica liberale, Margaret Thatcher, che dice una frase che poi diventerà emblema del capitalismo. There is an alternative, non c'è alternativa. Quando Margaret Thatcher nomina questa citazione, no? Questo adagio, in realtà non era proprio così. C'erano tre modelli, fondamentalmente. C'era l'ultraliberismo di stampo statunitense o britannico, che stava emergendo, la socialdemocrazia europea, e poi c'era tutto il blocco comunista, se vogliamo, incarnato nell'Unione Sovietica, anche se in realtà le esperienze sono state molte. Per questioni di rapporti di forza, per questioni politiche e per questioni storiche, i due blocchi socialisti, quindi la socialdemocrazia e il blocco comunista, sono crollati, anche se in realtà andrebbe rivista storicamente la valutazione storica che ne è stata fatta, e quindi è rimasta in piedi solo quella. E così nel 1992, facciamo un salto di quasi vent'anni, Fukuyama arriva a dire, siamo arrivati alla fine della storia, niente può più superare il capitalismo. In realtà oggi siamo di fronte a enormi contraddizioni. Il capitalismo funziona se non prendiamo tutti i fattori che lo determinano, perché se noi guardiamo semplicemente i bilanci aziendali, indici come possono essere quelli del prodotto interno lordo, allora funziona. effettivamente spacca, però non ci rendiamo conto che il capitalismo è il sistema che ha riportato in auge la schiavitù, che nel medioevo stava diminuendo, oggi invece viviamo in un sistema globale dove la schiavitù continua a crescere, ovviamente con altre forme. Se non consideriamo l'esternalità del capitalismo, quindi lo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, il peggioramento sociale, e soprattutto, l'hai anticipato bene tu, il deterioramento climatico, non riusciamo a fare un'analisi di insieme. Ora siamo sull'orlo del baratro, noi sappiamo, e ce lo dicono gli scienziati, manca poco, non dico la fine, però una situazione sicuramente tragica nelle conseguenze che si prospettano e abbiamo vissuto oggi in un sistema iper produttivista, iper capitalista, ma i nodi stanno arrivando al pettine, quindi non possiamo dire che funzioni. È un po' come dire, ognuno di noi riceve uno stipendio mensilmente, immaginate di riceverlo l'uno del mese. Ecco, noi abbiamo vissuto i primi sette giorni del mese sopra le nostre aspettative, usando risorse che non avevamo e lasciando da parte un po' alcuni pensieri sul lungo termine. Ora ci arriviamo però a sette del mese che ci rendiamo conto che non riusciamo ad completare il resto del tempo che ci aspetta. Quindi facendo questo parallelismo, anche se vogliamo un po' forzato, ci rendiamo conto che il capietesimo ha funzionato finché viveva in un sistema ideale dove le risorse erano infinite, infinitamente rinnovabili. Ma non è così e quindi sicuramente va pensato a qualcosa di diverso. Beh, ma questo te lo dicevo perché appunto io ho avuto modo di intervistare per esempio attiviste, attiviste ambientali, ho parlato con un filosofo femminista, Lorenzo Gasparrini, non so se lo conosci, e insomma si ritornava sempre lì. Poi ovviamente sembra che uno vuole fare la propaganda, ma è veramente tutto riconducibile a questo problema, nel fatto che il capitalismo non è più sostenibile. Parli di ambiente e ti dicono che il problema sono le industrie, il mercato della carne e l'inquinamento delle macchine. Parli con un filosofo femminista e ti dice che, lui ha detto essualmente, che il capitalismo è un figlio del patriarcato, tra l'altro, quindi riesci a collegare queste due problematiche. Quindi sì, è inutile pensare, è sciocco insomma, non pensare a un'alternativa, anche perché viviamo in un mondo finito di, come si dice, che ha materiale finito, non è illimitato, quindi dobbiamo saperlo gestire. Sì, un sistema di risorse chiuse, come dici tu, dove ovviamente nulla ci arriva dall'esterno, se non la luce solare, per il resto dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo, stiamo consumando molto di più. La questione ambientale, secondo me, appunto, ripeto, è emblematica. Per tanti anni noi ci siamo illusi che un cambio dei costumi e soprattutto dei consumi ci avrebbe salvati salvando il capitalismo, no? Il consumo etico, il consumo sostenibile. Questa strategia in realtà è ingenua da un certo punto di vista, oltre a modo pericoloso perché appunto non ha mai funzionato e soprattutto scarica le responsabilità sul singolo, sul consumatore, quindi devi consumare in modo sostenibile, non devi mangiare carne, non devi scegliere abiti che magari sono stati fatti in un certo modo e non in un altro senza considerare che c'è una simpatia di informazioni. I poveri soprattutto non hanno le informazioni per poter accedere al consumo sostenibile e molte volte non hanno le risorse. Sappiamo che mangiare sano, vestirsi sano, avere una serie di comportamenti sostenibili non è sostenibile economicamente. E allora qual è la soluzione? c'è un report che è delle Nazioni Unite anzi di un'agenzia delle Nazioni Unite l'IPCC l'International Panel for Climate Change che ogni anno ci racconta lo stato di salute del dibattito scientifico rispetto alla sostenibilità rispetto al cambiamento climatico. I giornalisti i miei colleghi sono abituati a leggere il riassunto da 30-50 pagine in realtà è un report molto complesso ogni anno sono più di 3.000 pagine. Ecco il grande cambio della grande svolta c'è stata nel 2021 dove l'IPCC che non prende mai posizione attenzione semplicemente porta in campo tutte le posizioni diciamo scientificamente rilevanti quindi è semplicemente una fotografia del dibattito scientifico l'IPCC cosa ci dice? Ci sono nuovi modelli in cui si può ipotizzare una decrescita o un controllo maggiore dello Stato decrescita come keyword non era mai stata non era mai stata riportata quindi in realtà anche in ambito scientifico si sta cominciando a dire non basta più delegare in modo decentrato i consumi e comportamenti degli individui ma ci vuole qualcuno dal centro che determini che decida come l'economia deve muoversi e come l'economia deve essere valutata quindi chiaramente se noi non prendiamo in considerazione i danni che il capitalismo fa alla natura l'economia si comporterà in modo diverso questo in una parola per semplificarlo questo ovviamente è un dato politico non c'è scritto sull'IPCC Dio me ne voglia ad affermare questo ha un nome e si chiama socialismo c'è un intervento maggiore nell'economia dello Stato è una decisione collettiva e non solo dei grandi attori le grandi aziende rispetto al funzionamento dell'economia la soluzione è il superamento del capitalismo la soluzione per me è il socialismo si 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 ma come hai detto tu non deve essere una responsabilità che ricade su di noi noi sicuramente abbiamo il nostro ruolo possiamo fare delle scelte ma non può ricadere tutto su di noi anche perché come dicevi avere un certo stile di vita uno stile di vita più etico costa io a me fa sorridere quando anzi un po' arrabbiare quando parlando con anche gente della mia età dicono ma come fanno le persone ad andare al McDonald's come fanno a comprarsi ancora i vestiti nuovi magari non sanno che per una persona mangiare carne o mangiare al McDonald's è semplicemente un risparmio economico perché non può permettersi altro o non può comprare il vestito fatto a mano o non può comprarlo su Vinted perché non sa neanche cos'è Vinted insomma non bisogna poi qua sta anche forse nella bravura dei ricchi del capitalismo far ricadere la colpa sempre su di noi sempre su chi è più in difficoltà no? sì è un diciamo quello che dici tu è un frammento del grande processo di individualizzazione dell'esistenza ci hanno convinti che non siamo una società non siamo una collettività prima ho citato Margaret Thatcher nel 79 nell'81 dice un'altra frase I don't know such a thing called society cioè non conosco niente che si chiami società c'è questa idea per cui esistono solo individui e tutt'al più esistono famiglie ecco in questo processo di individualizzazione tutto è nostra responsabilità è responsabilità la posizione sociale che occupiamo è la nostra responsabilità il lavoro che facciamo è una nostra responsabilità cosa e come consumiamo e quindi questo che è veramente un processo come ho detto di iper responsabilizzazione dell'individuo che però dall'altra parte de-responsabilizza chi dovrebbe occuparsi veramente delle grandi questioni sociali le istituzioni e la collettività inteso come soggetto politico lo Stato quindi fatte queste considerazioni quello che dici tu sì molto spesso le persone come individui non hanno gli strumenti per poter arrivare a comprendere a pieno la portata delle loro azioni e anche se li hanno a volte non possono scegliere diversamente se come dici tu sei un lavoratore una lavoratrice povero sei uno studente e vuoi uscire il sabato sera per tante persone McDonald's è l'unica soluzione che permetta di godere del sacro santo diritto di vivere la socialità se sei povero e vivi in una società dove sei continuamente guardato per come ti vesti H&M Zara o comunque tutta l'industria del fast fashion per quanto tu sappia che magari siano sbagliate perché sfruttano in qui non hanno modelli di business assolutamente insostenibili è l'unico modo che hai fondamentalmente di salvarti salvarti come individuo quindi bisogna rimettere un po' in discussione oltre che al nostro modello culturale un po' lo stiamo facendo anche questa idea per cui siamo monadi siamo separati gli uni dagli altri e se gli altri sbagliano molto spesso c'è una radice più profonda che racconta quei comportamenti e questa radice ha gli effetti del capitalismo del nostro sistema ideologico sulle povertà e comunque sulle alterità economiche secondo te i social incidono anche in questo perché io vedo per esempio gente della mia età ancora più giovane che vuole già inseguire quel modello quel modello di ricchezza quel modello di mentalità di successo e poi questo porta a dimenticarci dei reali bisogni delle persone no? questo continuo inseguire qualcosa come se non ci bastasse già quello quello che abbiamo e quello che siamo secondo me i social peggiorano e alimentano questa situazione allora non lo so se peggiorino o gli alimentino sicuramente accelerano modelli cognitivi modelli ideologici modelli culturali ne abbiamo sempre avuto è avuti è la storia dell'umanità le mode le tendenze le propensioni magari ad arrivare a determinate dialettiche determinati pensieri ci sono sempre stati è chiaro che la differenza che esisteva tra faccio un esempio mio nonno e un suo coetaneo negli anni 50 di 30 anni possiamo dire erano molto che abitava magari non so dall'altra parte del mondo in Corea erano molto ampie per come si vestivano per come pensavano per la cultura oggi i social ci hanno uniti un po' di più quindi rendono molto più veloci le interazioni però credo che ci sia una regia ancora più in alto appunto questo sistema di pensiero neoliberale che ci fa pensare che la ricchezza sia una virtù e soprattutto sia una virtù meritata e quindi tendere verso la ricchezza vuol dire avere la riprova sociale del fatto che io sono un buon cittadino avere la riprova sociale che io sono un buon individuo perché sono ricco e ce l'ho fatta e per farlo ovviamente devo ostentare alcuni elementi dalla ricchezza l'habitus chiamava Bordeaux quindi il modo in cui ci vestiamo come parliamo i luoghi che frequentiamo le macchine che guidiamo sono tutti piccoli elementi che servono per addobbare un po' la nostra personalità chiaro che in una società dove si preme la ricchezza la produttività e la performance addobbarsi in un certo modo è diciamo funzionale poi ad aderire a quel modello lì i social accelerano questo processo sicuramente mi è molto più facile vedere la vita di un super ricco rispetto a quello che poteva far mio nonno che al di là di una siepe poteva vedere qualcosa della vita dell'imprenditore sì sì anche perché continuando su questo ragionamento su questo punto di vista il ricco è uno che ce l'ha fatta il povero è uno che non ce l'ha fatta quindi ricadendo le responsabilità sempre sui singoli come dicevamo prima io ho sempre l'opinione guardando soprattutto i miei genitori guardando il mondo che mi circonda che ormai la libertà delle persone diminuisce sempre di più l'unico compito che hai quando ti svegli e lavorare per pagare diminuendo sempre di più ecco il tuo spazio vitale il tempo ecco il tempo torneremo prima o poi a pretendere il nostro tempo secondo me in un sistema del genere è impossibile perché non è appunto contemplato siamo delle macchine sì allora le libertà non so se crescano o diminuiscono bisogna capire di che tipo di libertà parliamo se per libertà parliamo di diritto l'autodeterminazione dell'individuo libertà di espressione libertà di pensiero io penso che globalmente si stiano facendo dei passi da gigante quello che era un modello illuminista di nicchia europeo quello insomma prodotto dalla rivoluzione francese si è allargato a macchia d'olio ora sappiamo che in tanti paesi dove ovviamente l'illuminismo non è arrivato nel settecento si aspira a quel tipo di libertà manca però poi la libertà sostanziale quella di poter disporre del proprio tempo di disporre di sufficienti risorse per vivere dignitosamente e come dici tu non è libertà perché siamo legati a catene invisibili che sono le catene della necessità e le catene del bisogno che sono quelle che poi ci spingono ad aderire ad accettare a volte condizioni di lavoro che non sono dignitose ad aderire ad accettare a modelli che sono di fatto molto bulimici del nostro tempo nel 1930 l'economista Keynes ipotizzava che nel 2030 avremmo lavorato 15 ore a settimana nel 2030 non ci siamo ancora arrivati mancano sei anni nel momento in cui stiamo registrando però insomma mi sembra che siamo molto lontani dalle 15 ore settimanali questo perché perché Keynes all'epoca vedeva un aumento della produttività che poteva permettere alle persone di lavorare sempre meno cioè si produceva abbastanza ricchezza e diciamo lo sviluppo tecnologico permetteva mano a mano di ridurre il numero delle ore banalmente se una volta bisognava filare a mano un abito attraverso l'industria tessile si è permesso magari di produrre molti più vestiti quindi produrre la stessa ricchezza con molto meno tempo qual è stato il cortocircuito che siccome i lavoratori hanno perso di potere fondamentalmente sono stati obbligati a lavorare le stesse ore a produrre sempre di più perché l'avanzamento tecnologico poi è andato avanti in modo esponenziale e quella ricchezza in eccesso che è stata creata invece di essere distribuita a tutte e tutti i lavoratori e lavoratrici che sono dei partecipanti attivi del processo produttivo quindi è una ricchezza che a loro spettava sono rimaste in alto sono rimaste ai proprietari delle grandi aziende e molto spesso al sistema finanziario degli azionisti che intercetta quella ricchezza con il risultato che oggi noi produciamo abbastanza ricchezza per poter lavorare tre o quattro ore al giorno ma ci tengono legati al nostro posto di lavoro otto ore se siamo fortunati chi ha la partita e vai freelance lo sa molto spesso e di più per produrre ancora più ricchezza che però verrà intercettata da qualcun altro una forma di ridistribuzione della ricchezza permetterebbe di eliminare tutti quei parassiti che stanno ai vertici della piramide sociale cioè chi guadagna senza far niente gli azionisti è il classico esempio mettono dei soldi e poi continuano a guadagnarci e permetterebbe a noi di lavorare molto di meno prendere quei 1.500 2.000 euro al mese senza ammazzarci di lavoro ma lavorando la metà è una forma di violenza politica a tutti gli effetti va riconosciuta come tale e invece viviamo in una società dove molto spesso queste persone come dicevi tu perché viaggiano col jet privato perché vivono in ville di lusso perché hanno lo yacht vengono ammirate e invece dobbiamo renderci conto che loro sono i veri parassiti e tanti dei malesseri sociali ma anche individuali di cui soffriamo hanno causa in questa ingiusta distribuzione delle riccheze a livello globale però diciamo gli va riconosciuta una certa bravura nell'essere riusciti a creare questa situazione poi ovvio che essendo ricco hai una certa influenza politica hai una certa influenza mediatica quindi diventa tutto più facile e a loro conviene sembra di parlare in maniera un po' complottista ma non lo è conviene mantenere questa situazione per questo a me sembra un po' a volte di fare la guerra con i mulini a vento non trovo un grande spiraglio più che avere speranza non saprei che altro fare ma beh non è una teoria complottista cioè da quando si creano le società complesse quindi non più piccoli gruppi di cacciatori raccoglietori ma grandi civiltà che contano centinaia migliaia di abitanti che vivono a stretta contatto i potenti hanno dovuto creare una narrazione dominante per convincere le persone a fare qualcosa cioè come poteva un sacerdote dire al contadino produci molte più patate di quelle che sono necessarie che poi devi darle a noi che non facciamo niente o devi darle ai soldati o ai re che non che non producono allora se abbiamo cominciato come esseri umani come sapiens a crearci una narrazione di fondo un tempo erano le religioni cioè dire ok dobbiamo produrre molto di più perché Dio ha deciso che dobbiamo far questo perché dobbiamo fare la guerra a quell'altro paese allora c'è bisogno di risorse ecco la narrazione oggi è ovviamente dominata dall'elite economiche non c'è più la divinità non c'è più il sangue blu oggi è il denaro il denaro che governa le nostre menti e quindi ci hanno convinti che tutto sommato il sistema deve essere così non è complotismo è quella che il filosofo italiano chiamava egemonia culturale cioè la capacità dell'elite di direzionare controllare il modo in cui pensiamo le cose di cui discutiamo i meccanismi cognitivi con cui poi vediamo il mondo però noi sappiamo che qualsiasi egemonia culturale qualsiasi narrazione poi a un certo punto crolla nessuno oggi andrebbe più a fare la guerra per Zeus o se lo dovesse fare lo prenderemmo per pazzo nessuno attiverebbe una guerra civile perché nel mio nella mia comunità ci sono i calvinisti e sono un cattolico oggi le guerre che facciamo hanno una base economica e vengono giustificate diversamente però anche questo sistema crollerà l'ho detto probabilmente non lo vedremo noi però appunto quello che ci resta da fare in questi casi è spingere o quanto meno far emergere le contraddizioni noi come radio stiamo portando avanti un progetto che si chiama Prospettiva 2030 tu prima parlavi appunto del 2030 e non riusciremo sicuramente a raggiungere quegli obiettivi secondo te qual è la prospettiva in Italia ma nell'occidente nel 2030 non penso sarà molto diversa da adesso allora se gli obiettivi sono quelli in proposito delle Nazioni Unite sì 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 ok agenda 2030 allora sono sono criticabili e mi permetto di consigliare un libro Jason Nickel The Divide che spiega come molto spesso gli obiettivi poi sono diciamo punti che noi poniamo come occidente con delle metriche che sono molto arbitrarie quindi in realtà quando noi diciamo bisogna abolire la povertà quando diciamo bisogna arrivare a determinati obiettivi anche civili poi dipende sempre come li analizziamo gli obiettivi del millennio non sono stati traditi ma con dei colpi di penna siamo riusciti diciamo a far apparire i risultati molto più vicini al traguardo di quanto in realtà non fossero quindi stare molto attento a questo tipo di metriche non è importante darsi una data al 2030 al 2040 al 2050 il cambiamento è oggi cioè oggi dobbiamo essere in grado di determinarlo poi se mi chiedi di fare una prospettiva qui al 2030 ti posso dire la mia impressione fallace sicuramente è quella di una società in cui qualcosa si sta muovendo argomenti come quelli di classe o come la critica al capitalismo che io porto avanti tutti i giorni 5-6 anni fa in un'epoca prepandemica erano gli argomenti di qualche piccola nicchia marxista leninista che veniva editata un po' come vecchia come arrugginita polverosa e oggi invece sono diventati argomenti mainstream quindi questo sicuramente è un dato positivo sta a noi cercare di diffonderli e renderli quanto più digeribili possibile se avessi la sfera di cristallo e sapessi cosa succede o cosa succederà nel 2030 nella vita giocherei gratte vinci non farei quello che faccio quindi non posso dirlo una cosa che secondo me cambierà visto lo stato di avanzamento nel 2030 è l'intelligenza artificiale e la robotica e le macchine lì forse ci troveremo molto più accelerata a dover affrontare un problema secondo te cosa succederà perché non penso sia inimmaginabile non sappiamo quando ma succederà che la macchina prenderà sempre di più il posto dell'uomo in ambito lavorativo sta già succedendo cito il mio lavoro il giornalista una volta nelle redazioni c'erano i correttori di bozze oggi non esistono più lo fa la macchina ormai qualsiasi notizia breve che leggete che può essere il mezzo il risultato calcistico o le piccole notizie di cronaca sono scritte da intelligenza artificiale non c'è più il giornalista che scrive quindi c'è già una sostituzione ci sono intelligenze artificiali che su alcuni giornali prestigiosi cominciano a scrivere anche long read quindi articoli lunghi di approfondimento e vale per tutti i lavori ci sono intelligenze artificiali che fanno ricerca medica meglio dei medici perché riescono ad aggregare milioni di dati in un unico computer in pochi secondi elaborarli ci sono intelligenze artificiali che programmano a loro volta altre intelligenze artificiali meglio di quanto facciano i programmatori cioè imparano dai programmatori a scrivere il codice e dopo gli rubano fondamentalmente diventano autonome il lavoro esatto quindi sta già sta già succedendo io dico sempre dobbiamo immaginarci forse due prospettive quasi tre però forse mi allungo troppo se racconto anche la terza la prima è una società in cui come dice uno studio pvc il 50% delle persone rimarranno senza lavoro e in una società come la nostra dove reddito è garantito da lavoro significa che il 50% delle persone non avranno da mangiare e quindi un aumento incredibile dei tassi di criminalità e malessere malessere sociale io credo che non succederà questo perché anche le elite economiche hanno tutto l'interesse affinché non succeda questo innanzitutto per una questione di pace sociale se il 50% della popolazione della fame non c'è sicurezza manco per loro diventa rischioso certo e poi anche per una questione meramente economica noi siamo prima che cittadini consumatori e pensare che il 50% dei consumatori non esisterà più significa collasso del sistema capitalista quindi degli strumenti verranno sicuramente messi in campo in modo da tenerci sempre sul limite sempre su quella linea sottile ecco certo e la la seconda prospettiva è quella appunto di slegare quel binomio ideale che noi ci siamo fatti quello di reddito uguale lavoro e cominciare a pensare a un mondo in cui il reddito non è più garantito dal lavoro ma esiste in quanto nostro diritto in quanto noi essendo noi esseri umani partecipi di questo sistema non solo economico c'è un'idea che si chiama reddito universale di base cioè un reddito che viene dato tutto e tutti indipendentemente dalla propria condizione economica e lavorativa e che permetterebbe a tutti di avere quella soglia di ricchezza quella ricchezza che ti faccia raggiungere la soglia sotto la quale verresti definito povero è un'idea che in realtà è molto meno utopica di quanto si possa pensare ci sono oltre 150 sperimentazioni in tutto il mondo quella spagnola e quella finlandese lo dico sempre sono le più simili alle nostre realtà per un contesto socio-economico e culturale sicuramente più vicino rispetto all'India o il Congo e hanno dato tutti ottimi risultati chiaramente significa superare questo binomio superare lo stigma della povertà come forma di colpevolizzazione ma permetterebbe a tutti di vivere in dignità la domanda che mi fanno sempre che tutti si fanno sempre quando parlo di reddito universale di base sono due domande una dove si trovano i soldi e diciamo nei modelli studiati fino adesso la redistribuzione è sempre il primo punto cioè cominciare a prendere la ricchezza da dove c'è e redistribuirla a tutti una tassazione anche una forma di tassazione sì il secondo diciamo la seconda questione che mi pongono tutti ma il reddito universale di base va dato anche i super ricchi sì va dato tutti proprio perché bisogna eliminare quello stigma legato alla povertà se no si chiamerebbe sussidio eliminare le classi in questo modo sì diciamo se viene dato tutti magari viene dato anche a Jeff Bezos riceve i suoi 700 euro di reddito universale di base che quindi diventa un diritto inalienabile che dai tutti non devi meritato non devi dimostrare di essere un bravo cittadino di cercare il lavoro dopo ovviamente a Bezos gli avranno date delle tasse molto pesanti e quindi con una mano lo stato gli da 700 euro con l'altra dovrebbe prendergliene molti molti di più e quei molti molti di più andrebbero distribuiti alla base della piramide sociale secondo me è un'idea innovativa non sicuramente priva di contraddizioni non priva di limiti anche dal punto di vista ideologico però è una strada che dobbiamo cominciare a percorrere sì certo nessuno ha la bacchetta magica ha bisogno di ragionare su questi sistemi anche se a me viene veramente difficile pensarci perché se gli attori protagonisti di questo mondo di questo sistema sono i ricchi è difficile che vadano contro i loro stessi interessi a meno che come dicevi tu l'avanzamento della macchina non porterà a una situazione così assurda e così paradossale che per tutelarsi ma sempre per tutelare loro stessi cercheranno di mettere in atto nuovi stratagemmi certo quello sicuramente allora sì è nel loro interesse tant'è che Elon Musk Zuckerberg stesso Bezos si sono espressi a favore del reddito universale di base non è un'idea di sinistra è stata proposta anche in una forma chiaramente edulcolorata da Milton Friedman che è il capomastro economico del sistema economico neoliberale sicuramente andrebbero fatte decine di considerazioni forse qua qua non c'è il tempo di farle tutte è chiaro che un super ricco in quanto super ricco non è mai felice di essere di essere tassato bisogna capire se riusciranno ad avere la consapevolezza che insomma un sistema economico così non è assolutamente sostenibile e se non ce l'avranno andremo a prenderceli noi con le forche beh questa mi sembra la conclusione perfetta Alessandro io ti ringrazio tantissimo l'ultima cosa voglio dare un consiglio a chi ascolterà di ascoltare anche il podcast in cui è presente Alessandro Saebi ovvero Melma e anche di seguire la newsletter di Alessandro Saebi che è veramente veramente interessante io leggo con con molta passione grazie grazie a te ci vediamo no non penso però mi verrebbe piacere riuscire a organizzare qualcosa anche anche qui quindi spero che resteremo in contatto e nulla grazie a chi ha ascoltato e chi ascolterà ciao a tutti grazie mille grazie mille alla prossima ciao concludo sempre ricordando che questa puntata faceva parte del progetto prospettiva 20-30 finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla regione di Calabria